Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Amici di Radio Bruno qui all'interno dell'area stile del Royal Hotel Sanremo abbiamo Sergio Silvestre Ciao amici ci troviamo di nuovo Ci troviamo di nuovo siamo felicissimi È una canzone bellissima, intensa e ti dico che la tua voce davvero riempie l'Aristo Grazie Beh questo complimento ce lo trovo un po' così Ci provo di fare di bello all'Arison Ci troviamo sempre bene È la tua prima volta in italiano? È la prima volta in italiano? È un pezzo... Ci sono tante cose che già pensando bene mi fa venire il brividi Il senso che ho tanta paura perché non è mia lingua Però ho lavorato tanto con questo brano, con questo progetto Non vedo l'ora di andare sull'Arison e cantare finalmente È arrivato il giorno dai È arrivato il giorno però prima di uscire sul palco Che cosa pensi se pensi a qualcosa? Allora sono due cose che penso Proprio faccio un attimo chiacchiere con me stesso Perché sono un po' così, cioè sono un po' particolare nel senso che mi piace dire a me stesso di stai calmo L'altra cosa immagino sempre la mia famiglia, mio zio, mia mamma, i miei fratelli, c'è tutti i miei famigli che anche se sono lontano sono sempre vicino a me nel cuore Quindi penso a loro, mi danno una forza Quindi ti vedranno da lontano, non saranno qui in Italia? No, no, tutti sono in America, quindi loro mi vedono su streaming Ottimo Sergio invece per la serata delle cover, grandissimo movimento su quel palco, addirittura con i Soul System Sì, sì, ho deciso di cantare con loro perché loro danno una grinta, una carica pazzesca sul palco Quindi non vedo l'ora, speriamo bene che usciamo di andare alla serata del cover perché loro hanno fatto Guarda, non voglio fare qualche antiprima però No, la devi fare Facciamo un casino, facciamo un casino, sì, sì E quindi davvero non vediamo l'ora di capire questo casino sull'Ariston che ci vuole Perché un po' la gente rimane lì bloccata, in platea, almeno si alza un po' No, speriamo che la gente gli piace, si alzi in piedi Guarda, loro Soul System sono fortissimi Quindi noi in palco, tutti e due insieme Noi insieme, è una bella cosa però speriamo sempre bene, dai Sergio, come stai vivendo questa avventura sarremese? La gara ti interessa? Sei già contento di essere sul palco dell'Ariston? Io sono molto molto contento di già essere qui Io non penso molto alla gara però io penso più alla gara me stesso perché a volte mi blocca da solo Io penso no, cioè perché sono un po' perfezionista, no? Quindi voglio che tutto va bene Quindi non ho tempo di pensare ad altri perché già ho tanti problemi con me stesso Quindi penso che questa gara è proprio per la mia testa, per non andare fuori proprio Tu pensa sempre che il pubblico italiano ti adora, non solo per come canti ma proprio per come sei Grazie Sì, davvero Che gentile Guarda, il pubblico italiano mi trattava molto bene Questo perché sono qui in Italia Perché il primo momento quando ho fatto la vacanza, quando ho conosciuto l'Italia, quando ho conosciuto la gente qui Sempre il primo impatto che mi volevano bene Quindi spero che la cosa che voglio portare è ringraziare la gente che mi hanno dato questa nuova vita, nuova anima Faccio questo pezzo, lo dedico a loro per quello Grazie mille, prima di salutarci però un saluto agli amici di Radio Bruno Sì Ciao, sono Sergio Silvestre e voglio salutare tutti gli amici ascoltatori di Radio Bruno Ciao Grazie mille a Sergio Silvestre E adesso io me l'abbraccio tutto Finalmente Oh, my love, my love Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei, abbigliamento maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue